Grazie a tutti. Grazie a tutti. Recupero dal deperimento in buona sostanza di questi beni da poter poi offrirli in condizioni un po' più decenti all'eventuale investitore privato all'interno di un quarto bando. Comincio subito, Avvocato Di Palo, col chiederle questo. Qual è la sua opinione? È sembrato che a un certo punto il Governo della Regione, non dimenticando mai il fatto che siamo riduci da una pandemia, e quindi questo ha sicuramente stravolto l'ordine delle priorità politiche e non. A un certo punto il Governo della Regione ha perso un po' il bandolo della matassa. Dopo tre bandi andati deserti c'è stata l'interlocuzione con Inail che è venuta meno, adesso si punta a questo recupero, anche ancorché in una delibera che non indica nelle cifre, nei tempi, nelle modalità. Qual è la sua opinione intanto? Da quello che ho capito dall'intervista del Presidente, sembra che tutto questo sia stato determinato dalla constatazione che il patrimonio così per come è rischia di non essere appetibile nei confronti degli imprenditori che vogliono partecipare ad un ballo. In effetti questo è dinanzi agli occhi di tutti, cioè purtroppo, così come io avevo previsto, a partire dal famoso 6 marzo 2015, purtroppo la decisione della chiusura ha determinato il degrado totale, l'oblio e anche una sorta di disastro relativamente agli impianti, all'impiantistica. La famosa cementificazione dei fanni. La famosa cementificazione. Quindi credo che la determinazione del Governo regionale sia appunto motivata da questa constatazione che penso, mi auguro per la verità, possa andare di pari passo rispetto alla emanazione di un nuovo bando, perché la delibera del Governo regionale è una delibera che ancora non prevede lo stanziamento finanziario e quindi sarebbe il caso di comprendere effettivamente con quale tempistica e soprattutto con quali risorse finanziarie la Regione voglia intervenire. Io non la vedo come un'iniziativa negativa, anzi la vedo come un particolare interesse della Regione per la salvaguardia del patrimonio che oggi si trova in queste condizioni e quindi se si riesce a stabilire un cronoprogramma che abbia una sua caratterizzazione di tempestività, penso che le due cose possano andare di pari passo e davvero si possa dare una svolta a questa purtroppo lunga e tormentata vicenda. La questione Inel e lei come l'aveva valutata? Mi pare che in un'occasione in cui proprio in questa emittente resi un'intervista la vedevo come un fatto molto evanescente, cioè mi sembrava qualcosa di estremamente astratto, si prendeva atto del fatto che l'INAIL avesse delle risorse finanziarie per la riqualificazione di un patrimonio immobiliare pubblico, ma mi restava particolarmente oscuro quale potesse essere il proseguo di un'iniziativa di questo genere. Quindi non avendola mai messa a punto, sinceramente non sarei nelle condizioni di esprimere un giudizio compiuto. E la sua opinione invece sul fatto che in mezzo a questa situazione di confusione il Comune riesce ad ottenere attraverso un accordo con il Ministero dei Beni Culturali mezzo milione di euro da investire sul Parco delle Terme, che è una cosa bella sicuramente, però dall'altro lato lascia un po' la mano in bocca. Riusciamo ad intervenire sul Parco delle Terme, ma poi non riusciamo ad avere le terme. Credo che questa sia un'iniziativa sganciata, che sia legata anche a dinamiche nazionali. Credo che ci sia stato anche il parlamentare di Sciacca, il senatore Madinello, che se ne sia occupato. In effetti non solo lascia la mano in bocca, ma credo che qualche problema poi di integrazione di questo intervento con quello che sta accadendo alla Regione, credo che sia indispensabile comprendere, perché il Parco è certamente qualcosa che noi tutti vogliamo, abbiamo sempre visto come qualcosa che ci appartiene sul piano della sua utilizzazione, è sempre stato così anche nel periodo in cui il Grandotello e lo stabilimento funzionavano. Bisognerà comprendere se questo intervento poi si integra con il bando ad evidenza pubblica che vedrà l'intervento di un privato. Quindi sono tutte cose che vanno messe a punto. D'altronde fino a questo momento è stato semplicemente stipulato un protocollo di intesa tra Comune nella qualità di concessionario e il Ministero dei beni culturali. Saranno importanti i prossimi passaggi che vanno seguiti con molta attenzione. La sua opinione sull'iniziativa organizzata dal Comune di Sciacca, la marcia a piedi su Palermo, qual è? Qui entriamo in un campo molto delicato perché ho seguito molto attentamente il dibattito di questi giorni e devo dire con franchezza che alcuni passaggi non li ho condivisi. Io vorrei subito dire due cose in premessa. La prima è che io nutro profondo rispetto nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa, di chi lo ha fatto spontaneamente, sia dei singoli cittadini che dei comitati o delle associazioni che hanno ritenuto spontaneamente di partecipare. E quindi su questo assolutamente massima considerazione perché chi lo ha fatto evidentemente ha creduto nella bontà dell'iniziativa e va rispettato incondizionatamente. La seconda cosa che vorrei dire è che non ci può essere alcun dubbio che tutti remiamo verso la stessa direzione. L'obiettivo nel cittadino di Sciacca, in colui che ha lavorato per questo obiettivo, ha subito, e il sottoscritto credo che ne sia una testimonianza vivente, ha subito il torto di avere visto le proprie terme chiuse dall'ente proprietario, cioè dalla regione siciliana, io credo che tutti questi soggetti remino verso una stessa direzione, cioè quella di rivedere il proprio patrimonio termale funzionando a pieno regime, forse anche di più rispetto a come lo era nel passato. E questa è la seconda considerazione rispetto alla quale il dibattito di questi giorni, secondo me, è un po' stato parziale e mancato. Perché dico questo? Perché alla stessa maniera di come si nutre profondo rispetto nei confronti di chi ha partecipato, io penso che lo stesso sentimento doveva esserci anche nei confronti di chi ha espresso un'opinione diversa. Un'opinione diversa che non è finalizzata a dire noi siamo contro le terme, ma ci mancherebbe altro, cioè saremmo veramente dei soggetti irrazionali se pensassimo una cosa di questo genere. Il problema è capire come si arriva alla indizione di questa manifestazione, che cosa l'ha determinata, posto che l'amministrazione comunale per quattro anni aveva camminato di pari passo con la regione siciliana, ne aveva condiviso, anzi era stata promotrice di alcune iniziative, secondo me in alcuni momenti anche commettendo qualche errore, la famosa concessione dell'ottobre 2017, a mio avviso fu un gravissimo errore che ha fatto perdere molto tempo rispetto al processo che si doveva portare avanti, ma in ogni caso si era camminato di pari passo con la regione, allora cosa ha determinato questa eclatanza di iniziativa che è stata posta in essere? E soprattutto qual è stata la ragione per la quale non si è condivisa con il resto del panorama politico e sociale di questa città, cosa che ha creato un sentimento di divisione all'interno della città e non solo per il solito ragionamento l'una e per olla, ha creato una divisione perché non c'è stata una condivisione preventiva che non poteva venire da altri, doveva venire da chi voleva indire questa manifestazione, anche per spiegarne le ragioni. D'altronde poi io credo che non si possa negare l'evidenza perché secondo me noi dobbiamo sempre essere molto realisti nell'analizzare le cose, non c'è dubbio che questa è stata una manifestazione voluta dall'amministrazione comunale e sponsorizzata politicamente dal Partito Democratico, che è il primo soggetto politico che un minuto dopo dalla indizione di questa manifestazione interviene per condividerla. Quindi non era un'iniziativa civica? Assolutamente no, cioè o noi neghiamo l'evidenza e diciamo che è un'iniziativa civica, oppure noi diciamo le cose per come stanno senza polemica, molto serenamente, perché ripeto questo è un tema sul quale tutti dobbiamo rimare dalla nostra parte, però diciamo le cose per come stanno. Questa è un'iniziativa politica, sponsorizzata politicamente, su cui ci sono state delle adesioni spontanee che vanno rispettate, alla stessa maniera le altre posizioni che invece puntavano a dire possiamo capire, primo, che cosa è accaduto in una città in cui non c'è Consiglio Comunale. Perché le faccio un esempio, se ci fosse stato il Consiglio Comunale, lei pensa che la sensibilità politica di un sindaco poteva evitare che questo fosse argomento di comunicazione in Consiglio Comunale immediato? Io penso che era il primo argomento che si doveva discutere in Consiglio Comunale. Allora, in una città nella quale non c'è Consiglio Comunale, il confronto politico, e il dibattito democratico ormai è esclusivamente limitato ai social, bene che vada. Non c'è coinvolgimento alcuno delle altre forze politiche. Con tutto il rispetto siamo in presenza di una giunta che ha un sindaco eletto dal popolo, un altro amministratore eletto dal popolo, il resto degli assessori non lo sono. Allora, in una situazione nella quale la rappresentanza politica di una città è così compromessa, io penso che sarebbe stato utile, lo dico assolutamente senza polemica, ma lo dico con una certa fermezza dell'argomentazione, sarebbe stato utile coinvolgere il più possibile, coinvolgere le forze politiche, dare le comunicazioni del caso, evitare che questa vicenda diventasse un motivo di divisione anche attraverso alcuni momenti comportamentali molto scomposti, perdonatemi, non ci si può mettere dietro un manifesto in cui si dice Musumeci hai tradito la propria terra, perché credo che questa sia una provocazione troppo grande nei confronti pur sempre del Presidente della Regione. Cosa che magari gli ha fatto dire che le termine erano state chiuse dal governo Crocetta, anche se qui a Sciacca nessuno è disposto a difendere Crocetta, il governo Crocetta. Sì, però è anche vero. Non credo che ci sia qualcuno, anche nella sinistra, che sia disponibile a farlo. Lo so, però quando il sottoscritto era in prima linea nei confronti del governo Crocetta e cercava a tutti i costi di far capire a quel governo che quella chiusura sarebbe stata un disastro assoluto, molto più grande del disavanzo della S.P.A., che poi è stata la ragione vera della chiusura, la sinistra, questa sinistra che oggi non vuole difendere il governo Crocetta, la sinistra però criticava il Sindaco del Tempo, cioè il sottoscritto, perché non era stato capace di convincere il governo Crocetta a fare diversamente. Qualcuno la invitava a incatenarsi, si ricorda? Sì, ma infatti avremmo risolto il problema se io mi fossi incatenato sotto la Regione. A quest'ora le terme sarebbero state riaperte. Io penso più all'approccio istituzionale che un Sindaco deve avere quando deve esercitare la propria funzione. Però lei l'ha sperimentato, Avvocato De Paola, l'approccio istituzionale purtroppo talvolta si concretizza con gli sganassoni, con le timpolate per dire lo secchietario. Ma io vorrei la prova del contrario, cioè che un approccio istituzionale risolve il problema. Ma io vorrei la prova del contrario. In realtà, in quell'occasione, io feci tutto quello che ero nelle condizioni di fare, ma anche con iniziative che non avevano solo il taglio della presa di posizione amministrativa, quindi la delibera, le relazioni, le interlocuzioni scritte. Ma io vi voglio ricordare che abbiamo fatto consigli comunali aperti, abbiamo riunito tutti i parlamentari del territorio, abbiamo più volte chiesto alla presenza dei parlamentari del territorio audizioni in commissioni, abbiamo parlato più volte col Presidente della Regione, siamo stati con i dipendenti sotto la Presidenza della Regione. Cioè se questo è un gesto che doveva servire, è stato fatto, ma non è servito. Allora, ritorno un secondo e chiudo. Ritorno a Crocetta. Nessuno lo vuole difendere. Al tempo però tutti dicevano che io non ero stato capace di convincerlo, ma non si può considerare come se avessimo bevuto un bicchier d'acqua, perché la chiave di volta di quella vicenda è la chiusura e la concessione dell'ottobre 2017 sbagliata, perché quella concessione ha fatto perdere due anni di tempo, perché il Comune ha assunto alcuni oneri che non è stato nelle condizioni di onorare. Lei lo disse subito questo, Donor Del Vero. Voglio tornare un po' sulla iniziativa. Ho la sensazione che lei la contesti sul piano metodologico, organizzativo, non sul piano della necessità di fare qualcosa, anche se dice non capisco da cosa è stata generata questa decisione. In ogni caso qualcosa andava fatto probabilmente. Questo lo condivide? Io sicuramente la contesto sul piano metodologico, però la contesto anche, a prescindere dalla eclatanza del gesto, sul piano dell'obiettivo. Oggi l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere qual è? Quello di dire al ente proprietario, perché è così, la legittimazione giuridica purtroppo è questa... No, mi scusi, se la fermo un attimo. Il proprietario sono le terme, nelle polemiche... Della regione. Della regione. Nelle polemiche di quando furono chiuse, qualcuno disse o scrisse, Di Paola, si ricordi che le terme sono state chiuse mentre lui era sindaco. Esattamente. E quindi diciamo che anche quella fu una cosa così. Assolutamente. Sui generis. Quindi per dire che non bisogna mai dimenticare che le terme sono di proprietà della regione. Assolutamente, non lo dobbiamo dimenticare. E quindi, tornando all'obiettivo della manifestazione, noi come lo vogliamo riempire di contenuti, una iniziativa nei confronti della regione siciliana? La dobbiamo riempire di contenuti chiedendo al Presidente della regione che, fra l'altro, qualche tempo fa, a quanto pare, avocò a sé la questione, chiedendo al Presidente della regione se mi posso permettere, questo è il mio punto di vista. Primo, intanto che si irrobustisca anche attraverso la creazione di una task force regionale, possibilmente anche con apporti del territorio, quindi con apporti comunali, di persone che conoscono approfonditamente cosa sono le terme di Sciacca, una squadra di soggetti che, sul piano amministrativo, tecnico e politico, se ne occupino. Se ne occupino giornalmente. Perché io credo che questa sia una delle cose che sia assolutamente mancata. È mancata sotto il governo Crocetta, e forse è mancata durante la gestione dell'assessorato all'economia. E dico queste cose per averle vissute in prima persona. A mio avviso, all'interno di alcune strutture regionali non c'è stata, e probabilmente non c'è ancora, quella competenza per gestire bene questo processo. Secondo, se è vero che si stanzieranno delle somme, va certamente comunicata alla città di Sciacca un cronoprogramma serio, quindi sottoposto a una tempistica di un certo tipo su come ci si vuole determinare, anche rispetto al bando. Capire se va di pari passo, o capire, come io mi auguro, o capire se va disgiuntamente. Questo deve essere il contenuto delle iniziative che un'amministrazione comunale, che ha una rappresentanza politica di un territorio in cui sono localizzate le terme, secondo me deve fare rispetto alla regione siciliana. Lei che è molto attento, ed è un complimento che le faccio alla forma istituzionale, se è stato un errore il cartello, lo striscione musumeci traditore della Sicilia, insomma non mi pare che musumeci abbia un piglio istituzionale quando dice pensavo di poter collaborare, non è più possibile, ho capito che non è più possibile, sembra quasi la decisione di rompere ogni rapporto tra la regione e il comune, non è questa la strada che si bisogna perseguire. Penso che quella sia stata una reazione anche alle cose che musumeci aveva visto, con le foto che gli furono inviate per quella manifestazione, è chiaro che evidentemente non si può escludere il comune da questo rapporto che deve essere portato avanti, però a prescindere dalla reazione in quanto tale, musumeci due cose importanti le disse, e cioè, primo, fino a questo momento l'amministrazione ha viaggiato di pari passo con noi, vorremmo capire che cosa ha determinato questo cambio di rotta, e in effetti è qualcosa che vorremmo capire anche un po' noi, l'intera cittadinanza, o comunque le forze politiche che hanno ritenuto di esprimere un proprio punto di vista, e seconda cosa, il comune aveva assunto degli oneri, e questo è indubitabile, perché basta guardare, non solo la concessione, ma un verbale del dicembre 2018, in cui ancora a quel tempo si mettevano in evidenza quali erano gli oneri del comune e gli oneri della regione, e il comune assumeva il compito di fare lo stato di consistenza, la regione si assumeva invece un compito di supervisore, quella fu una questione che fu accolta dal comune. Attribuisce a quel contratto del 2017, poco dopo le comunali e poco prima delle regionali, la causa di tutto il blackout che si è generato. E' una delle cause che ha determinato un ritardo, una delle cause. Ma lei non trova che comunque anche gli ultimi fatti ci dicano che per la regione siciliana queste terme sono state un peso, e lo sono forse tuttora? Quali fatti? Che le terme siano un peso, la regione non sa come fare a risolvere questo problema, non ha questa sensazione. Io non credo che a Palermo sia mancata in questo periodo una volontà politica in questo senso. Io torno a ribadire che a mio avviso è mancata... Però come lei ha detto, se il musumeci avvoca a sé la questione vuol dire che c'è qualche problema. Ecco, io credo che in questo periodo è mancata una competenza di natura amministrativa, dirigenziale e burocratica all'interno delle strutture dell'assessorato regionale competente. D'altronde io non ho alcun timore a dire che quando si assunse quella delibera del 2015 di chiusura delle attività termali e delle attività alberghiere, certamente quella determinazione fu assunta con la volontà politica del Presidente della Regione del Tempo, che era il socio unico della S.p.A. ma ci fu una determinazione della struttura delle partecipate che non solo avallò questa decisione, ma la sostenne fortemente contro il parere mio personale che invece ragionavo in termini più squisitamente politici, meno raggeneristici, meno burocratici. Io dicevo, guardate che se voi chiudete le terme, non si determinerà un disavanzo di 2 milioni euro all'anno, ma si determinerà un danno di centinaia di migliaia di milioni. Attenzione! Anche per l'economia locale. Anche per l'economia locale, certo con tutto quello che indirettamente ciò ha significato. Quindi secondo me c'è anche questo, che è uno dei problemi che va superato in questa fase. Qual è la sua opinione politica anche sul fatto che adesso la maggioranza che governa la regione siciliana ha alcuni deputati in più che sono i fuoriusciti dal Movimento 5 Stelle, tra cui il nostro concittadino Matteo Mangiacavallo. All'incontro che ha avuto sul programma di fine legislatura con Musumeci qualcuno si aspettava che Mangiacavallo ponesse la questione delle terme. Lei come la vede? Ma pare che io, diciamo, seguo la stampa. Non sono conoscitore di cosa può essere accaduto in quell'occasione. L'onorevole Mangiacavallo ha dichiarato che le terme non sono state inserite in questo contesto perché non erano un tema di ordine legislativo. In quel contesto si poneva mano a questioni che dovevano essere trattate in Assemblea regionale siciliana e secondo l'opinione dell'onorevole Mangiacavallo quello non era un tema che doveva essere trattato in sede legislativa, ma ha più una caratura amministrativa, una caratterizzazione amministrativa. Questo è quello che ho sentito dire. E lei cosa pensa? Evidentemente si sarà preso atto di questo, sinceramente non lo so. Io credo che in effetti la questione terme abbia una caratteristica sicuramente amministrativa perché è chiaro che tutte le vicende relative al bando hanno una loro caratterizzazione amministrativa. Ma mi risulta che proprio in questi giorni pare che si stia nuovamente discutendo un vecchio disegno di legge sul riordino del sistema termale a cui ho anche dato un'occhiata, però anche questo è un tema che va attualizzato perché quel disegno di legge, la cui relazione preliminare è molto incentrata su Acireale, cioè sulle vicende di Acireale va attualizzato nel senso che se deve avere un suo significato deve essere legato al momento che stiamo vivendo. Ha ragione Mangiacavallo a dire non ho partecipato perché non sono stato coinvolto, non sono stato invitato, per la verità ha detto. Diciamo anche lui evidentemente fa un'analisi di tipo di critica metodologica su quello che è stato deciso. Sulla questione inviti, non inviti non ci voglio entrare perché, ripeto, non è questo secondo me l'argomento. Certo, un parlamentare regionale poi ha tutto il diritto di dire quello che pensa anche relativamente a come le manifestazioni vengono comunicate ai parlamentari del territorio. Io che non sono un parlamentare ma sono un semplice esponente politico di una parte politica, contesto il metodo non sul piano dell'invito fine a se stesso ma sul piano del coinvolgimento, del coinvolgimento preventivo che avrebbe dovuto precedere qualunque tipo di iniziativa anche per capire se questa iniziativa era la migliore, cioè era quella più importante che si poteva portare avanti. Vi chiedo un'ultima cosa, un po' maliziosamente in questi anni si è detto che se, essendo il Presidente della Regione della parte orientale della Sicilia, che se non si fossero risolti i problemi di Ecireale noi ci saremmo potuti sognare che si risolvessero i nostri. Adesso mi pare che le parti si stanno un po' allineando, lei è un po' malizioso come me oppure no? Ma visto il lungo tempo trascorso, magari fosse così, magari fosse così che ha messo in non congesso che ci sia un interesse particolare del Presidente su Acireale e questo possa risolvere il problema, che ben venga, visto che comunque nonostante le termini sciacca siano più avanti nel procedimento di sistemazione rispetto a Acireale, però sono trascorsi troppi anni. Perché comunque potessero ripartire. Quindi magari fosse così, io non credo che sia così, perché la sensibilità istituzionale del Presidente Musumeci è tale per cui secondo me non è assolutamente così. Penso che invece ci possa essere da parte del Governo regionale una volontà politica di riprendere e rilanciare il termalismo in genere per quello che può rappresentare il territorio, perché poi una considerazione politica di fondo va fatta. Ma non ci sono dubbi che se le termini di sciacca a pieno regime e le termini di Acireale a pieno regime funzionassero anche con quelle prerogative molto più moderne che devono oggi caratterizzare le termini, non ci sono dubbi che questo avrebbe un grandissimo vantaggio non solo per il territorio di sciacca e non solo per il territorio di Acireale, ma per tutto il territorio regionale e per quello che potrebbero rappresentare. Quindi io non credo che ci possa essere un Governo che non abbia una volontà politica verso questa direzione. Ribadisco che la questione però va affrontata in termini molto più seri sul piano amministrativo e sul piano dirigenziale e burocratico. La ringraziamo per essere stato nostro.